Papà, hai mai temuto che il tuo potere non bastasse? Ogni singolo giorno. Il mondo ha bisogno che diventi qualcosa di più. Non è male combattere dei mostri. È solo che io non sono poi così bravo a farlo. Andiamo sul sello! Oh mio Dio. Non va bene. Recuperate il carico. Sì signore. Ken, lei crede che tu sia sua madre. Ehi, va tutto bene? No, no. Ma perché fa così? Ha il riflusso gastrico. I bebè hanno il riflusso. Grandioso. Io non sono fatto per queste cose. Come ci riesci a dedicarti a tutto? Il lavoro, tua figlia. Onestamente non è facile. Sono dei piccoli mostri a volte. Oltre a me fa il tuo lavoro! Lo sto facendo per il mio segno! Trovate il cucciolo e riportatemelo vivo. Ricciavuto, signore. Attenta! Non è il momento di giocare. Scendi subito da lì, signorina. Oltraman, consegna il cucciolo subito. Onda non si fermerà mai. Non finché non riuscirà a catturarla. Ha bisogno di te. Attacca! Non importa cosa accade, non importa il rischio. Ultraman ci sarà. Vogliamo combattere insieme? Taraaa! Ultraman! Il babysitter perfetto. Aaaaaah!